ciao anime e ben ritrovati in un'altra puntata di radio brodo d'anime siamo qui in compagnia di un amico cristian ciao cristian ciao ben arrivato tra noi perché cristian è qui perché oggi vogliamo parlare delle problematiche legate ad avere un cane in una città no le problematiche che abbiamo noi e che ha il cane stesso poi perché cristian è qui perché un paio di giorni fa ha scritto in abusi segnalazioni malcostumi chioggia un gruppo di facebook che tanti conoscono anzi lo voglio suggerire si chiama proprio chioggia abusi malcostumi segnalazioni eccetera digitate questo trovate il gruppo chiedete di entrare dentro l'amministratore sicuramente vi farà entrare lì si parla di vari problemi di problemi della città ovviamente di chioggia e lì si fanno le segnalazioni si cerca di avere un rapporto diretto tra anime cittadine cristian è qua per quel post perché mi ha fatto venire questa idea dico lo chiamo voglio parlare di questa cosa chiamo cristian visto che ha parlato così cosa spiegavi nel post brevemente praticamente mi sono recato ai giardinetti pubblici quelli dietro la scuola domilani la zona piperno ok e ho visto che nonostante ci siano i cestini qualcuno ha mangiato la pizza ha gettato tra i cartoni bottiglie ha fatto uno dei soliti malcostumi diciamo che si fa quello che mi ha mi è saltato subito all'occhio è che era il giardino era appena stato pulito l'erba era stata fatta manutenzione come si deve era bellissimo solo che saltava all'occhio questa cosa qua essendoci pure i cestini messi in vari punti del giardino tu esprimevi anche un altro concetto in questo post dove raccontavi questa cosa che cominciavi col dire no ringrazio molto questi ragazzi che hanno sporcato ecco se andate sul post lo vedete però specifica anche un altro fatto il fatto che dice io mi devo fare problemi ad entrare con il cane dentro il giardino esatto praticamente c'è un bel cartello come nella maggior parte dei giardini che vieta l'ingresso ai cani allora io mi chiedo l'ingresso ai cani è vietato perché ci giocano i bambini o perché il cane fa i bisogni e qualche bravo cittadino non li raccoglie allora io penso che intanto ci sia una forma di razzismo verso i cani perché solo i cani non possono entrare come animali domestici al giorno d'oggi abbiamo gatti chi addirittura serpenti cioè loro potrebbero entrare tranquillamente i bambini in effetti questo è quello che mi chiedevo facciamo chiarire proprio questa cosa e se voi andate sul giardino pubblico alla porta c'è scritto appunto il disegnino del cane che ho scritto io qui non posso entrare ho vietato l'ingresso ai cani ma non c'è vietato l'ingresso anche per assurdo diciamo ai serpenti agli elefanti o ai tigri cioè se io ho una tigre posso andare tranquillamente nel giardino con la tigre questa sembra un po una cagata una battuta ma è la realtà poi i gatti sono libri vanno in giro tranquilli vanno pure lì vuol dire perché i cani no allora tiriamo su questa problematica perché i cani no ma i cani non hanno diritto di vivere cioè per noi è già sbagliato vivere in un appartamento chiuso di 30 40 metri quadri e di vivere su delle strade dove che per le macchine c'è una strada grandissima e per l'essere umano c'è un piccolo marciapiede così che lo dobbiamo condividere con i nostri cani che poi cagano e bisogna andare voglio dire è brutto no se non c'è un posto dove i cani possono andare a cagare è brutto perché anche se la tiri su la cacca se un po più liquido sembra un po disgustoso parlarne ma rimane comunque lo sporco non è il caso assolutamente di lasciare in balia della fortuna diciamo i cani della fortuna che chi va a prendere nel canile o chi li prende dall'allevamento sia qualcuno che ha il giardino che la gran parte delle persone non hanno giardini vivono su delle casette è diritto è diritto nostro avere dei giardini per noi ben manutenzionati e per i nostri cani che poi non sono i nostri cani per i cani che sono i nostri amici e noi li tuteliamo e abbiamo anche il dovere dopo tutto di tutelarli perché dove vanno questi cani dove cosa fanno i cani devono vivere in mezzo alla natura noi ci siamo tolti la natura per noi e l'abbiamo tolta anche per i cani ed è un problema serio perché vai a vedere il 25 del mese scorso ti ricordi che c'è stata l'iniziativa oceanica christian spiaggia hanno fatto la pulizia della spiaggia bellissima iniziativa mi piaciuta quella domenica sono andato in spiaggia io ho notato una cosa particolare un paio di cose particolari la prima era che tutti erano rivolti verso il mare tutti in silenzio rivolti verso il mare sembrava proprio uno stato meditativo della gente come che qualcosa sta succedendo ci sentiamo qui ne parleremo in altre puntate più specifiche ma un'altra cosa veramente particolare era che su dieci persone christian nove avevano il cane ho provato a fare una statistica sai che mi fa una statistica ho preso un gruppo di persone ho contato ed era così nove su dieci avevano il cane e mi chiedevo no ho girato un attimo le spalle al mare prima stavo guardando il mare che bello il mare quanto tempo ho girato le spalle al mare ho guardato la gente ho riflettuto ma tutti questi cani cioè tutte queste persone non è che se la sono affittato per quel giorno per fare i figli il cane ce l'hanno il cane solo come vivono con il cane e quando vengono al mare come fanno come fanno l'inverno logicamente la spiaggia per fortuna è accessibile benissimo dai cani anzi oltre a fare bene i cani che corrono si divertono fa bene anche noi d'estate diventa un po un problema perché si sa che negli stabilimenti balneari il cane non lo puoi portare in spiaggia nel tempo libero che tu hai e devi dedicarlo ovviamente anche al tuo cane non puoi andare in spiaggia se vuoi andare in spiaggia devi lasciare con 25 gradi fuori devi lasciare a casa il cane da solo perché tu devi andare in spiaggia no assolutamente no tango il cane facciamo una precisazione ho ho saputo ho capito e se volete vi informate un po meglio ma mi sembra di avere capito che in spiaggia libera vicino alla diga quest'anno si può andare con il cane si hanno cambiato le regole poi c'è un'altra cosa da dire vicino alla diga proprio c'è un pezzettino recintato con tanto di fontanella che potete mettere il cane dentro poi farvi il vostro giro non so bene come sarà gestita comunque ho visto ma non ho spiegato che serve per quello c'è una fontana per i cani non c'è per noi in tutta la città una fontana comunque almeno lì per i cani facciamo un elogio a chi l'ha fatto non lo so forse magari l'hanno fatto per un fatto commerciale non lo so lo scopriremo lo sapremo presto magari qual è il problema il problema è che a chi oggi a sottomarina oltre che essere da esserci proprio poco spazio verde per tutti noi quel poco spazio verde non si può utilizzare con il cane allora istituzioni sindaco mi stai guardando amministratori comunali assessori chi è di dovere pensateci io so che è stata fatta anche la proposta è stata proposta un'interrogazione sul verde pubblico l'ho visto sempre in questi gruppi vi consiglio vi consiglio questo gruppo che oggi abusi malcostumi segnalazioni segnalate segnalate mostrate più che si può ecco è stata presentata questa interrogazione al consiglio comunale se è vero quello che hanno scritto quindi datevi una mossa perché è un problema serio dobbiamo avere uno spazio anche per gli animali non possiamo essere così caffoni da fregarcene già che lo spazio per noi la natura che c'è stessa e lo mostro spesso con i miei monitoraggi come vedrai anche tu dove c'è natura c'è spazzatura va bene colpa di chi butta la spazzatura è chiaro però se siete pagati siete lì siete pagati da noi per per lavorare per noi quindi cercare che ci sia la natura messa bene a nostra disposizione che tutto sia posto datevi da fare se c'è il problema cerchiamo di risolverlo non freghiamo ce ne buttando etnet di qua di là e poi quando il cane fa la cacca i cittadini stessi i cittadini stessi appena tu sei col cane il cane fa la cacca e poi sotto dietro lì non vede l'ora spera che tu non la tiri su per poter sfogare tutte le le sue aggressività verissimo verissimo è vero uno gli girano le palle perché magari tutto il giorno guarda la tv e i tre giornali pensa che quella sia la realtà in ogni caso per quel poco che riesce a capire di quello che ci sta succedendo attorno gli girano le palle gli girano le palle per il marito o per la moglie che non vanno d'accordo per il lavoro che non basta mai tutto quello che è arrivi tu con il cane se ne prendono con te ancora prima che tu faccia qualcosa che non va esatto volevo dire un'altra cosa e comunque volevo sapere se su quel cartello di viaggio di accesso ai cani si potevano mettere delle non so visto su tanti posti ci sono delle ordinanze delle piccole norme di legge ecco tu vorresti venire specificati esatto per specificare perché è successo a me che il cane mi si è scappato dal collare il cane è partito è andato dentro i giardini in quel fragente è arrivato il guardiano che doveva chiudere e gli ho detto il cane mi è scappato un attimo che lo prendo quindi per sapere se il cane non può entrare appunto perché il cane può sporcare oppure perché il cane può dar fastidio ai bambini cioè logicamente un bambino può avere paura del cane è giusto il cane può interpretare un gesto del bambino ma il bambino può avere paura anche degli esseri umani se vogliamo ok allora volevo chiedere se si può se si può fare una zona anche all'interno stesso del parco adibita per i cani non penso ci vogliano tutti questi soldi per fare che ne so un pezzo di rete un qualcosa anche perché i giardini sono grandi certo la richiesta è questa la richiesta è che ci sia uno spazio verde anche per i cani c'è esatto recintato dove si possa andare lì col cane sarà tranquillità se il cane fa la cacca lo fa nel verde si tira su con l'apposita paletta con il giornale che ci sia l'apposito cestino bisogna anche essere organizzati perché guardando bene si si tira sulla cacca ma la cacca dove va buttata cioè uno la prende normalmente la butta sui cestini dove si butta la carta il secco non riciclabile ma in realtà dovrebbe andare nell'umido l'umido andrebbe messo allora dai controlliamo la questa cosa qua organizziamoci in maniera che chi ha il cane possa sentirsi felice di avere il cane che è un peso e non può andare in vacanze non può andare al mare non sa dove portarlo a fare la cacca quello che è perlomeno a chioggia dove c'è un sottomarina abbiamo uno stabilimento grandissimo degli spazi come detto te stanno incominciando un po' a parire però sono ancora un po' limitati roba non c'è ancora capire perché c'è anche poca informazione comunque va bene il discorso è questo adesso la spiaggia è ancora un po' aperta diciamo perché stanno cominciando ora a fare i lavori ma tra poco sarà chiusissima per andare in spiaggia anche i cittadini chiaggiotti dovranno pagare perché non ci sono spiagge libere c'è un pezzettino che poi è data anche lì in uso ai ragazzi che fanno kitesurf quindi un po' ambigo non si capisce bene dov'è sta spiaggia libera per noi ci deve essere la spiaggia libera che ci siamo obbligati e in più in spiaggia anche se libera di solito non si può portare il cane adesso sembrerebbe su quella indica che si possa speriamo vedere organizziamoci queste sono le lotte che bisogna fare parlo anche con l'app la protezione animali sono loro amici degli animali via anche voi via facciamo questo tipo di campagne sentiamo e soprattutto voi che mi state ascoltando commentate scrivete qui sotto tra i commenti scrivete la vostra dire ma mi va bene bene questo ragionamento non mi va bene io ho questo tipo di problema riguardo il cane più persone scrivono più anime si fanno vive più le persone delle istituzioni che guardano questi tipi di interviste capiscono la situazione reale non è una lamentela che nasce da noi qui a brodo d'anime io mi muovo a parlare di cose non inventate la me di cose che tutte le anime mi parlano mi dicono tutti i giorni ogni segnalazione io cerco di fare un monitoraggio e vi invito ancora segnalate qualsiasi tipo di problema segnalate ne parliamo insieme e creiamo un monitoraggio o creiamo una puntata di radio brodo d'anime dai io direi che possiamo salutare gli amici abbiamo parlato di quello che dovevamo parlare mi sembra non abbiamo messo niente e sono stato felice di averti qui cristiana grazie anche a te ti devo avermi dato la possibilità di esprimere con il mio volto diciamo il mio problema e spero che si risolverà in qualche maniera insomma che le istituzioni che chi che ne è di competenza faccia qualcosa affinché anche i nostri amici animali possono correre su un prato sicuro e soprattutto legalmente bene diciamo che il brodo d'anime serve a questo serve a dare la possibilità alle persone di parlare in questa situazione potreste essere chiunque di voi voglio dire chiunque di voi ha qualcosa da parlare seriamente si prepara una piccola relazione mi contatti pure c'è il mio numero di telefono nel canale youtube c'è la mia mail dappertutto anche qui sotto come vedete qua c'è la mail quindi facilissimo contattarmi trovarmi anche se mi trovate per strada ditemi pure quello che volete dirmi consigliatemi chiedetemi di fare intervista io sono disponibile ho lasciato tutto per fare questo per voi anime facciamo un saluto grosso di cuore da cristian e da tidio l'invito è sempre quello del monitoraggio riflettete anime e quello che è importante dire anche tu cristian sei un anima di brodo d'anime per questo sei qui a parlare e anche voi siete anime di brodo d'anime e io vi amo